Selling May and Go Away. Quante volte abbiamo sentito questa frase proprio in questo periodo a maggio? Ma cosa vuol dire? Ha senso? Non ha senso? Vediamolo insieme oggi in questo nuovo video. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Oggi parliamo di stagionalità da un punto di vista un pochino diverso. Infatti parliamo di SP500 e di questo famoso motto, vendi a maggio e poi ci vediamo chissà quando, che circola nell'ambiente della finanza da un sacco di tempo. Io sono Francesco Buzzi, trader, investitore e founder di Batsway.it. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi tutti gli appuntamenti. Ultimo avviso, domani sera alle 18 c'è la diretta Batsway, mi raccomando. L'unica possibilità, occasione di farci due chiacchiere vis-à-vis, mi raccomando, non mancate. Direi di partire subito dopo la sigla. Selling May and Go Away Tipica strategia del sentito dire, del sentito popolare riguardo all'SP500, secondo la quale forse è meglio vendere a maggio e ricomprare, non c'è esplicitato nel proverbio, a ottobre. Questa doppia stagionalità, lunga sei mesi, in cui forse una strategia profittevole potrebbe essere esattamente questa. Vendere l'SP500, che è un indice e questa cosa qua fa tutta la differenza del mondo. Io per voi ho portato un po' di dati, facciamo un po' di ragionamenti interessanti. A partire proprio dai dati. Che performance ha l'SP500 nel semestre incluso in questo motto popolare? Secondo questi dati di fact set dal 1950 al 2019 compreso, il semestre da maggio a ottobre è effettivamente il semestre più negativo, peggiore in assoluto. I vari altri semestri hanno sicuramente rendimenti maggiori e in rosso vediamo qua in fondo il semestre peggiore, maggio-ottobre, 1,5%. 1,5%? Vi dice qualcosa di strano? 1,5%? Ebbene sì, signori miei, questa è una grande realtà da dover capire insieme grazie ai numeri. Da maggio a ottobre in media l'SP500 sale, non scende, sale tipicamente dell'1,5% in media, che è poco, che è la cifra minore rispetto a tutti gli altri semestri. Assolutamente, non c'è alcun dubbio, ma non scende per nulla questo già invalida questo tipo di detto popolare. Non è vero, non selli, non vendi a maggio l'SP500, rischi di farti veramente male se lo fai, perché tipicamente, statisticamente, negli ultimi 70 anni avresti perso soldi. E questa è una verità che si può trovare grazie ai numeri, grazie all'analisi statistica quantitativa. Ed è una cosa molto importante, perché ciò che è tramandato in senso popolare, per tradizione, anche in finanza, o viene certificato dai numeri e dagli studi, o è fuffa. Nulla di concreto, nulla di vero valore. Un altro dato che ho recuperato per voi è proprio questo. In questo caso abbiamo due soli trimestri, quindi fissi maggio, ottobre, novembre, aprile. In rosso, le colonne rosse, abbiamo il semestre, teoricamente, di trend short, ribassista. E in blu-azzurro, il trend fuori da questo semestre, quindi evidentemente rialzista. Vediamo che la differenza è notevole in alcuni lassi di tempo, però non è mai negativa. La barra rossa non è mai negativa. Negli ultimi all-time, io presumo siano dal 1930 o 40, la performance da maggio a ottobre è assolutamente positiva. Pare circa, intorno al 2%. Certo, è inferiore rispetto all'altro semestre, ci mancherebbe, assolutamente vero. Però è positiva, questo detto è falso. Ma attenzione, stiamo parlando quindi di stagionalità. Si può definire stagionalità questa qua sull'SP500? Beh, se vogliamo andare a scavicchiare nei termini, no. Noi di Bazzuay.it, per noi la stagionalità è qualcosa legata alle stagioni. Ah, ma anche questa è legata alle stagioni? No, no, assolutamente, perché non importa che noi stiamo intervenendo, diciamo, a primavera e estate. Non c'entra niente, non è collegato questa statistica. È semplicemente un motto popolare che va da un periodo a un altro. Ma quello che c'è dentro questo periodo non interessa a nessuno. La stagionalità, invece, per definizione, è per le stagioni che fa avvenire un trend di prezzo che ci può interessare o meno. E questa è tutta la differenza del mondo. Infatti, anche ipoteticamente fosse stato vero questo detto, se è l'imera e go away, non sarebbe definibile stagionalità. Al massimo bias o bias, che dir si voglia. E questa è una cosa molto importante da capire, che abbiamo trattato tantissimo nel nostro corso Seasonal Spread Strategici. Ho lasciato il logo vecchio a posto, perché questo è il primo corso, datato 2019, molto vecchio, ma si mantiene molto giovane. Proprio perché due anni e mezzo fa io parlavo già di queste cose e della grande differenza che c'è tra materie prime e i future finanziari. L'SP500 è un indice, quindi è incluso nella categoria dei future finanziari, insieme ai future obbligazionari e ai future sulle valute, le currency. Questo tipo di future non ha strutturalmente una stagionalità, semplicemente perché il prezzo non è determinato da piogge, raccolte, semine, domanda, offerta, ho freddo e quindi consumo più gas, oppure fa caldo e quindi semino la soia. Cioè nulla di collegabile alle stagioni vere e proprie terrestri, tangibili, toccabili, ok? Questa è una differenza estremamente importante, ma altrettanto sottovalutata, non compresa. Ci possono essere, con eccezioni incredibili, alcuni trend di prezzo sui future finanziari. Potrebbe essere, ma uno, non definiamo le stagionalità, due, attenzione a valutarle bene. Perché? Perché le stagionalità si possono valutare in due modi, ed è quello che facciamo. Noi le stagionalità le valutiamo sia da un punto di vista statistico. Abbiamo già visto come fare questa statistica. Noi prendiamo gli anni e semplicemente misuriamo numericamente, se è vero o è falso, se l'immeggo away non ha valore di performance, perché è sale al posto di scendere. Quindi con i numeri riusciamo a raggiungere la verità, e questo è un modo per valutare le cose. Quindi se abbiamo una stagionalità sulle carni, sul cotone, sul petrolio, sul gas, noi possiamo valutarlo con i numeri. Ma il secondo modo, che ci permette appunto di distinguere materie prime dai future finanziari, è la causa. E fa tutta la differenza del mondo, perché con le materie prime noi possiamo risalire alle cause. Gran parte di questo corso è dedicato proprio a questo. Noi prendiamo la soia e vediamo le stagionalità sulla soia in un anno che si ripetono da 70 anni a questa parte. Quindi noi abbiamo la statistica sui 70 anni, ma abbiamo anche una motivazione. In questo caso è legata letteralmente alle stagioni di semina e di raccolto, che influenzano il prezzo con la domanda e l'offerta. Così le carni, così il cacao, il cotone, così il natural gas, la benzina. Questo è il grande discrimine, è la grande differenza tra le materie prime e i future finanziari, che vorrei capiste. Il secondo messaggio è, nel momento in cui abbiamo un'idea, un'ipotesi, una convinzione, cerchiamo di validarla con i numeri. I numeri sono strumenti, non dicono per forza la verità, ma se li usiamo a nostro favore, li usiamo bene, ci possono dire effettivamente dov'è l'occasione di guadagno e dove non c'è l'occasione di guadagno e se li usiamo bene ci possono dare anche strategie simili che guarda caso, eh sì, non la sto registrando, ok, che guarda caso è sul cacao, non è sull'obbligazionario o su euro o su sp500. Una stagionalità in spread lunga che sta tendendo al take profit, non è detto che lo prenda, è particolarmente positiva, quindi io mi vanto perché ovviamente è a mio favore, ma sicuramente non troverete mai nel nostro servizio segnali un riferimento a una stagionalità sulle materie prime. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi invogli, vi inviti a validare le informazioni che sentite là fuori grazie ai numeri, grazie alla razionalità, allo studio e alla competenza. Noi ci vediamo domani sera alle 18 per la diretta e se volete informazioni o volete comprare il corso Seasonal Express Strategici, link in descrizione o numero verde 800 475 300. È stato un piacere, buon giovedì, a domani, ciao!